Ascolti e share del Prime Time di lunedì 17 gennaio 2022 Non mi lasciare su Rai 1 conquista 4,3 milioni di spettatori, staccando il GF VIP di quasi un milione di utenti 3.2 per il reality proposto da Canale 5. Se si guarda invece il dato dello share, il programma guidato da Alfonso Signorini fa meglio, grazie alla diretta lunghissima che si è protratta come di consueto, fino a tarda ora. Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata. Rai 1, non mi lasciare nuova ha raccolto 4 milioni e 312 mila spettatori, 19,5 per cento. Rai 2, delitti in paradiso ha conquistato 1 milione e 211 mila spettatori, 4,9 per cento. Rai 3, reporta ha catturato l'attenzione di 1 milione e 727 mila spettatori, 7,6 per cento. Canale 5, il grande fratello VIP ha convinto 3 milioni e 230 mila spettatori, 21,3 per cento. Italia 1, Fridom oltre il confine ha intrattenuto 961 mila spettatori, 4,4 per cento. Rete 4, Quarta Repubblica è stato visto da 910 mila spettatori, 5,1 per cento. La 7, il lunga FK un caso ancora aperto ha incollato innanzi al teleschermo 273 mila spettatori, 1,5 per cento. TV8, Crid Secondo ha raccolto 233 mila spettatori, 1,1 per cento. 9, Palermo Milano solo andata ha convinto 299 mila spettatori, 1,4 per cento.